Parte da Palazzo Cavallo un'opera di sensibilizzazione volta a richiedere una legge nazionale che consenta l'installazione delle telecamere, nelle scuole e nelle strutture assistenziali per anziani e disabili. È una lettera che ho inviato agli assessori alla scuola e al sociale di tutti i comuni capiluogo della Toscana e al presidente Dianci per unirci nella sensibilizzazione alla Commissione parlamentare che sta valutando le proposte di legge che sono di tutti i colori, quindi non è solo una specifica parte politica, per poterci dare il via libera e anche le risorse perché non ci servono leggi manifesto ma leggi vere, per poter applicare i servizi di sorveglianza sia all'interno dei luoghi educativi che all'interno dei luoghi di cura, quindi vale per i bambini ma vale anche per i disabili e vale anche per gli anziani. Non è un elemento di sfiducia, è un elemento di chiarezza e quando si parla di bambini, di disabili e di anziani io preferisco un eccesso di zelo ad un atteggiamento da tabù incomprensibile che davvero soltanto in pochi ancora hanno. Ecco, Arezzo si era già candidato come comune pilota per la sperimentazione delle telecamere a interno di queste strutture, credo che confermi questa sua volontà. Assolutamente sì, ma infatti la lettera nasce anche da questo, così come oggi ho avuto il piacere di sapere che la nostra comunicazione è già stata assorbita positivamente da il cosiddetto gruppo dei 50.000, cioè delle 50.000 famiglie che hanno sottoscritto un invito al Parlamento a procedere velocemente, ci candidiamo ad essere un soggetto pilota proprio perché siamo consapevoli di essere un soggetto straordinariamente pronto, con delle professionalità straordinariamente forti. Però se sfugge anche un solo elemento, quell'elemento è una famiglia, è un bambino, è un anziano e un disabile che non può fare la media. Grazie. Grazie. Grazie.